Giornalmente ci sono persone che vengono appunto disperate a lamentarsi perché magari nel loro condominio c'è un'affittanza turistica. Anche Carpenedo che comunque era sempre considerato un'isola felice. Oltre al problema del degrado e della criminalità, ora anche Mestre si deve scontrare con il fenomeno delle affittanze turistiche. È la desertificazione sociale che questa giunta sostanzialmente ha creato all'interno di una città viva come Mestre che sta diventando una città morta. È una città che ormai si sta allargando a quello che è il fenomeno turistico che sta prendendo, ha già preso Venezia e sta prendendo anche Mestre. Il 30% in più di affittanze si è registrato quest'anno e quindi questo significa una realtà in continuo movimento delle persone che non sono i cittadini. E un mercato tra l'altro della casa che diventa sempre più difficile per i veneziani e per i mestrini. Di questo si discuterà nell'assemblea pubblica Casa e è sicurezza mercoledì alle 17.30 al centro civico di via Sernaglia a Mestre. La sicurezza infatti passa anche attraverso la casa e un quartiere riesce a difendersi solo se abitato e vissuto. La presenza dei lagunari poi non è condivisa da tutti. È una pazzia pensare all'esercito, è una pazzia vuol dire continuare a militarizzare la città invece che a sostenere la socialità. Il vigile di quartiere è un'altra cosa perché è una persona che sta lì, che conosce la situazione, sta lì per anni, non per un giorno o mezza giornata e perciò ti puoi anche confidare con lui e dire guarda che lì probabilmente nasce una rissa, stai attento, previeni ciò che potrebbe succedere. La situazione è destinata a peggiorare, sostengono i membri dei vari comitati. Se non verranno applicate con urgenza misure efficaci come quelle su cui sta lavorando un tavolo di esperti della Rete Solidale per la Casa. Partono da modifiche a regalamento di edilizio che mettano in serista, per esempio, un limite nella possibilità di mettere servizi, toilette in un appartamento che non possono essere uno per stanza e poi per esempio un accesso che ci dovrebbe essere un accesso singolo per ogni alloggio turistico. Poi il comune si dovrebbe rendere garante dell'assegnazione delle case, secondo la legge ragionale lo prevede, in emergenza abitativa.